Inquadrare subito quello che è l'arrivo degli azzurri che stanno arrivando in questi istanti allo stadio L'arrivo del Napoli intorno alle 11-10, partita 12-30, i due pullman del Napoli fanno il loro arrivo proprio adesso in una situazione di calma totale perché chiaramente per il momento è davvero tutto tranquillo qui fuori questo è il pullman del Napoli che arriva allo stadio Picco, proviamo anche a scorgere qualche azzurro in realtà pullman blindatissimo come sempre che fa il suo ingresso allo stadio Alberto Picco qui anche il pullman con lo staff al seguito del Napoli con tutto il team dello staff di Luciano Spalletti e lo staff medico della SSC Napoli che è arrivato in questi istanti allo stadio Alberto Picco e sta facendo il suo ingresso in campo proprio in questo momento allo stadio Alberto Picco di La Spezia dove è arrivata proprio in questo momento la squadra di Luciano Spalletti impegnata, ore 12-30 come vi dicevamo per la gara della Serie A contro lo Spezia e è arrivato anche il responsabile della comunicazione Lombardo in auto e poi Edoardo De Laurentiis alle spalle accompagnato insomma da altri dirigenti della società Napoli è arrivato praticamente tutto insieme allo stadio ve lo ricordo partiti da Lerici che dista circa 15 minuti dalla Spezia è lì che il Napoli ha iniziato la sua trasferta e Vittorio che ringrazio, Vittorio Bernardo proviamo anche a inquadrare quello che può essere l'arrivo degli azzurri chiaramente senza entrare vediamo se è possibile ma in realtà credo di no perché sono praticamente